Due trasferte altrettante sconfitte per l'abriosa Barcellona che dopo aver ceduto il passo al supplementare in casa di Tortona cade pesantemente a Ferentino con il punteggio di 80-63. Determinante a favore dei padroni di casa è stato il terzo quarto che ha fatto registrare un parziale di 23-11 sul quale Barcellona è definitivamente naufragata. Eppure nei primi due quarti i giallorossi avevano provato a tenere testa ai ciociari trovando anche uno splendido fallucca con ben 18 punti realizzati fino all'intervallo lungo. Poi Ferentino ha avuto la meglio facendo valere tutte le sue potenzialità da squadra costruita per puntare al salto di categoria. Per Barcellona invece la consapevolezza di avere provato a dare tutto. La squadra è già rientrata in sede e domani riprenderà ad allenarsi sotto le direttive dello staff tecnico guidato da coach Maurizio Bartocci e dal suo vice Francesco Trimboli. Sarà una settimana altamente impegnativa per i giallorossi chiamati a riscattare la bellezza si fa per dire ovviamente di ben quattro sconfitte consecutive maturate ad Agrigento, Tortona e Ferentino e inframezzate dalla batosta interna contro Megna. La gara di domenica prossima sarà un autentico scontro salvezza contro la CEA Roma dell'ex capitano Giuliano Maresca. I capitolini proprio ieri sera hanno conquistato la prima vittoria del loro campionato superando Biella sul parquet Amico.